Andrea Piccadini Grazie, buongiorno. Quindi, dalle stelle alla terra. Io avevo 38 anni, due figlie e un bel lavoro, quando una sera mio marito è venuto a casa e mi ha detto che fra due mesi ci trasferiamo a vivere negli Stati Uniti. è stato un bello shock anche perché ne avevamo parlato sì, ma solo a livello di idea non di fatto concreto abbiamo vissuto a Washington DC per tre anni tre magnifici anni devo dire anche se ricordo i primi sei mesi come un periodo particolarmente difficile quando l'esperienza è finita ho voluto capire meglio che cosa mi era successo e studiando ho realizzato che quello che era accaduto a me sorpresa, sorpresa accade a tutti quelli che si trasferiscono all'estero e di quel periodo ho imparato una lezione che oggi condivido con voi e cioè che adattarsi è più facile che resistere quanti di voi hanno mai pensato di trasferirsi all'estero per lavoro, studio o semplicemente per cercare un altro posto dove vivere? parecchi bene questa è la mia casa di Washington e questo è il paesaggio a cui eravamo abituati siete in buona compagnia perché sono oltre 4 milioni e 200 mila di italiani che oggi vivono all'estero circa il 7,3% della popolazione italiana quindi numeri non piccoli andare a vivere all'estero è una grande opportunità una straordinaria avventura un elemento di arricchimento a tutte le età ma è anche una grande sfida qui arrivare preparati perché quando l'occasione diventa concreta oltre all'entusiasmo cominciano le paure le ansie i dubbi ce la farò ad adattarmi a vivere in un paese diverso dal mio ce la farò ad imparare una nuova lingua nuove abitudini a farmi nuovi amici e ci preoccupiamo sempre molto degli aspetti pratici del trasferimento trovare una casa che cosa portare organizzare il trasloco in realtà queste sono le cose più facili da gestire nella mia esperienza americana vi racconto due piccoli episodi accaduti all'inizio che servono per introdurre il tema il primo giorno di lavoro mio marito va a lavorare e naturalmente come si usa in Italia si presenta al lavoro in vestito formale giacca e cravatta camicia stirata scarpe inglesi il classico gessato salvo arrivare e trovare un mare di t-shirt e di pantaloni informali c'è qualcosa che non va il primo sabato sera alcuni colleghi di lavoro ci invitano a cena sono molto gentili gli americani vogliono subito coinvolgerti e naturalmente sabato sera andiamo con un abbigliamento rilassato un po' casual salvo scoprire che tutti gli altri sono vestiti eleganti come per una cerimonia c'è decisamente qualcosa che non va dopo pochi giorni cominciano ad arrivare degli inviti per delle feste siamo in giugno apro l'invito e penso sarà una festa in giardino i nostri vicini ci vogliono coinvolgere nella piccola comunità del nostro quartiere apro l'invito e resto scioccata c'è scritto save the date il nostro party sarà il 10 novembre dalle 19 alle 21 e io penso ma e se accetto e poi il 10 novembre sono morta che figura ci faccio e se poi alle 21 non me ne vado cosa succede? mi buttano fuori? ma perché si comportano così? perché come si dice è la cultura bellezza il modo di comportarsi delle persone è determinato dalla loro cultura e anche se noi non ce ne accorgiamo il modo in cui noi ci relazioniamo agli altri e agiamo nella vita di tutti i giorni è condizionato da quello che abbiamo appreso fin da bambini vivendo in un certo gruppo in un certo paese e in un certo specifico momento storico quindi quando abbiamo a che fare con altre persone che vengono da altri paesi è inevitabile che ci sia uno scontro tra culture la cultura è sicuramente visibile nei nostri comportamenti quotidiani ma permea la nostra vita in maniera ancora più profonda è legata a tutto quello che noi pensiamo facciamo al modo in cui ci comportiamo ai nostri atteggiamenti alle nostre percezioni questa è una cavalletta e voi direte è un semplice animale sì è un semplice animale ma questo animale è considerato una piaga in Nord America e in Europa è considerato un animale domestico in molti posti della Cina è considerato un ottimo antipasto in Thailandia se anche un animale così piccolo è percepito e costruito nel suo significato culturalmente immaginatevi che cosa succede con le persone quello che ci succede quando incontriamo culture diverse dalla nostra è che subiamo quello che viene definito il culture shock ma il culture shock non è un evento è un processo e cerchiamo di vederlo assieme perché arrivarci preparati è la cosa più importante all'inizio viviamo qualche giorno in cui tutto sembra irreale siamo appena arrivati e ci sembra di vivere in un sogno subito dopo abbiamo una fase di grande entusiasmo si chiama la luna di miele tutto è nuovo eccitante interessante ci piace scoprire guardare vedere tutto in una luce romantica purtroppo questa fase dura solo poche settimane dopodiché cominciano i problemi non siamo in vacanza siamo lì per restare e cominciamo a sperimentare tutte le difficoltà di vivere in un ambiente che non è il nostro le difficoltà di comunicare con gli altri le resistenze tutto ci sembra irritante le persone il clima il cibo le abitudini finché tocchiamo il fondo abbiamo molti sentimenti negativi frustrazione ansia paura difficoltà senso di incompetenza incomunicabilità è difficile vivere da stranieri in una terra straniera e quando siamo in questa fase solitamente utilizziamo come tutte le persone due comportamenti gli stereotipi e l'etnocentrismo gli stereotipi sono ovviamente delle generalizzazioni delle schematizzazioni molto rigide di caratteristiche che attribuiamo a un gruppo di persone anche se in realtà appartengono a degli individui volete degli esempi? i tedeschi sono tutti rigidi gli svizzeri puntuali gli italiani molto romantici i francesi arroganti gli americani ignoranti ma a proposito di ignoranza voi sapete dove è Buffalo? qualcuno lo sa? no Buffalo è la seconda città più importante dello stato di New York dopo New York City stato di New York vedete siamo ignoranti anche noi come del resto credo che pochi di noi sappiano qual è la capitale del New Mexico Santa Fe oppure dell'Alabama Montgomery o del Mississippi Jackson eppure gli Stati Uniti sono molto più grandi e più popolosi dell'Europa ma noi non sappiamo quali sono le loro capitali ma pensiamo che gli americani siano ignoranti perché spesso non sanno che Parigi e Bruxelles non sono entrambe in Francia quindi gli stereotipi sono facili da ribaltare un'altra arma che utilizziamo è l'etnocentrismo cosa facciamo? pensiamo che la nostra cultura sia la migliore etnocentrismo letteralmente vuol dire mettere il proprio gruppo al centro attribuire una superiorità intrinseca al proprio modo di agire alla propria cultura noi italiani quando andiamo all'estero lo facciamo sempre il nostro cibo è il migliore di tutti gli altri siamo gli unici a saperci vestire decentemente al mondo il nostro paese è il più bello in assoluto ma non siamo gli unici a fare questo per tutti è così quello che succede nella nostra famosa curva è che una volta superata questa fase impariamo a risalire impariamo nuove strategie ci facciamo nuovi amici capiamo come comportarci e finalmente torna anche la fiducia in se stessi l'equilibrio la voglia di stare con gli altri e fino a quando ci integriamo siamo di nuovo a casa finalmente abbiamo capito che il paese ospite la nostra nuova casa sappiamo distinguere gli aspetti positivi e negativi della cultura di origine e della cultura di partenza tutti quanti passiamo attraverso questo processo quando andiamo in un paese straniero ovviamente questo processo è più o meno lungo più o meno intenso a seconda di chi siamo noi di che esperienze abbiamo precedentemente e anche di quanto distante la cultura di origine da quella di arrivo quello che è importante però è conoscere questo processo in anticipo esserne consapevoli per poter affrontare meglio l'esperienza perché alla fine adattarsi è più facile che resistere grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti